Si torna a sparare a Foggia dove nella serata di ieri un uomo, Rodolfo Bruno, 39 anni, è stato ucciso con diversi colpi di fucile calibro 12 e una pistola calibro 921 all'interno del bar annesso all'area di servizio Agip lungo la statale 673 alle porte della città. La vittima, ritenuta dagli inquirenti vicino al clan Moretti, era sola al momento dell'agguato e stata sorpresa dai killer almeno tre mentre era alle prese con un videogame. Dopo il delitto i sicari sono fuggiti a bordo di un'auto. Bruno, 39 anni, era libero da circa un anno. L'ultimo suo arresto risale ad ottobre 2016 per un tentativo di estorsione ai danni dei titolari di un autoparco. L'uomo vicino allo storico clan della società foggiana, in lotta ad anni con i sinesi Francavilla per il controllo del territorio, in quell'occasione assieme alle persone che lo accompagnavano, malmenò la vittima sotto gli occhi della moglie e dei figli. Sul posto gli agenti della squadra mobile e i colleghi della scientifica per i rilevi del caso, al vaglio degli inquirenti filmati delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza dell'area di servizio.